Un esempio concreto di quanto l'innovazione non sia qualcosa di separato rispetto all'ecosistema delle imprese. Tutte le imprese hanno bisogno di innovazione, le imprese che sopravvivono sono imprese che continuano a essere innovative. Investire in innovazione significa investire nell'ecosistema delle imprese di domanda. Nessuna impresa è reale, un po' come quello che accade agli uomini. È necessario essere sempre sulla frontiera dell'innovazione, sulla frontiera della tecnologia, sulla frontiera del prodotto. Ed è necessario integrare il ciclo delle imprese, chiamiamolo così tradizionali, con le imprese di domanda.